Paolo, questo scontro fra le prime della classe ve lo siete giudicato in maniera molto meritata perché Pistoia nel complesso, nei 40 minuti, forse è stato molto più continuo rispetto a Casale. Sì, sicuramente io credo abbiamo fatto una partita buona, solida, convincente. Abbiamo avuto dei cali, ma non di tensione, abbiamo fatto errori soprattutto nel secondo quarto. Però la partita è stata solida, una partita fatta di grande attenzione, di grande intensità, di grande volatilità. E questo mi fa molto piacere e per questo faccio i complimenti ai ragazzi. Paolo, so che magari può essere presto, però sei punti su Casale, vantaggio negli scontri diretti. Non so se è un gran sigillo, ma forse è un piccolo sigillo, sì. È un passo avanti perché sicuramente Casale con noi ha una differenza nello sconto di diretta negativa, sei punti e lo stesso numero di partite da disputare, quindi sono sei punti veri, che quasi diventano otto con la differenza canestre. Mentre invece abbiamo Barcellona che è dietro, abbiamo Brescia che è dietro e hanno una partita in meno e dobbiamo andare a Brescia e deve venire Barcellona con una differenza piuttosto negativa con Barcellona. Quindi in realtà quelli sono teoricamente quattro che potrebbero diventare due con lo scontro negativo se dovessimo perdere in casa con Barcellona. Quindi non vogliamo abbassare la guardia, è chiaro, è un passo avanti come lo è ogni vittoria, però nel nostro DNA lavorare ogni settimana, ogni giorno per cercare di migliorarsi e così faremo fino alla fine. Coach, una partita proprio degna del blasone di queste due squadre. Si è visto che stasera in campo c'era la prima e la seconda della classe. Per quanto vi riguarda, avete giocato una partita veramente intensa, una partita dove si è vista una squadra viva. Ci abbiamo provato, sinceramente è la cosa più importante, uscendo anche da una partita che invece aveva detto l'esatto contrario, cioè che oltre al problema di essere un po' sulle ginocchia con qualcuno, eravamo anche spenti dentro la testa. Sinceramente aver fatto lo stesso tipo di partita, con tutto rispetto per Veloli, chiaramente ci avrebbe condannato oggi, non alla sconfitta, penso onorevole che abbiamo poi ottenuto sul campo. Potevamo perdere anche di qualcosa di meno, ma non conta nulla. Diciamo che ci avrebbe dato invece una mazzata importante. Noi mazzate quest'anno, se Dio vuole, non le abbiamo mai prese, anche se chiaramente la sconfitta di Veloli ci pesa sul gruppone abbastanza. Comunque sono d'accordo con te, una cosa che ci ha contraddistinto fin dall'inizio dell'anno è stato il fatto di essere una squadra che lotta, che è passata attraverso mille difficoltà, come i due mesi e mezzo senza un americano, che anche voi sapete bene, vista qualche assenza di Michael Hicks, cosa può voler dire. Farlo per due mesi e mezzo però carica chiaramente un po' di più qualcun altro, e poi arriviamo e magari qualcuno è un attimo in riserva. Sinceramente avrei preferito presentarmi qua in una condizione fisica un po' più brillante, però sinceramente non si è visto neanche tanto, nel senso che alla fine morivamo per difendere e questa è la cosa che ci piacerebbe vedere sempre. Riccardo immagino che ci sia stata grande euforia a fine partita nello sbogliatoio. Beh sicuramente ci godiamo questo bellissimo momento e questo primo posto consolidato, meritato, dove affrontavamo una grande squadra con grandi nomi e noi siamo stati bravissimi a difendere molto bene, forte, duro, poi anche picchiando perché comunque a entrambi le parti non siamo risparmiati, quindi abbiamo offerto un'ottima partita per il pubblico, per l'alto livello, clima playoff, bellissima serata, conclusa in modo perfetto. Ci si pensa un po' a questi sei punti di vantaggio, il vantaggio dello scontro diretto, oppure come ha detto Paolo, beh insomma attenzione anche a Barcellona perché una partita in meno deve venire ancora qui. Deve venire ancora qui, una partita in meno e comunque è ancora tutto aperto, nel senso è più diciamo nelle mani nostre che in mano degli altri, anzi è solo in mano nostre, però come sappiamo è ancora lunga e ci abbiamo ancora da lavorare. Sicuramente se vinciamo in casa con Barcellona mettiamo diciamo un buon 90% in tasca il primo posto. Michael, beh insomma, grazie a tutti, complimenti per la bimba perché è stupenda veramente, quindi va a fare un commento anche alla moglie. Ora poi complimenti si fanno anche per la partita perché credo che veramente stasera Pistoria ha dimostrato di aver giocato di squadra, veramente da grande squadra. Assolutamente, complimenti e grazie anche per il pubblico che si è stato oggi perché ho sentito durante la settimana che il Palazzo Triva è abbastanza caldo e l'abbiamo visto. È stata una partita molto importante per noi, sanno giocare con la squadra, seconda classifica è una spinta in più e oggi abbiamo dimostrato di essere pronti a qualche situazione e abbiamo portato qua due punti importantissimi a classifica. Michael, due punti importanti che secondo te possono essere un sigillo sul primo posto oppure, beh insomma, aspettiamo prima di dirlo? Sì, assolutamente, dobbiamo aspettare perché mancano sei partite alla fine e tutto può succedere. Noi ci alleniamo e prendiamo una partita alla volta e vediamo come andiamo e se continuiamo avanti così sicuramente non si paragonano. però dobbiamo essere molto attenti perché sono sei partite e ogni partita e i campionati sono importanti, si è visto il risultato della settimana scorsa con Barcellona e Imola. L'ultima classifica, la seconda e terza classifica, ha visto che ha fatto, ha perso. Noi dobbiamo essere molto pronti e attenti a tutto quel calo di tensione che abbiamo un po' e cercare di giocare come abbiamo fatto oggi. se giochiamo così ormai arriviamo come vogliamo arrivare però se pensiamo che ancora è così, vabbè, giochiamo su, 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 giù, su, giù sicuramente prendiamo qualcosa brutto.